Buongiorno a tutti, buon lunedì e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. Molti di voi dovrebbero già aver ricevuto i pagamenti delle pensioni di settembre 2024, soprattutto chi riceveva l'accredito tramite banca o con conto banco posta. Ebbene, ora volgiamo lo sguardo verso le pensioni di ottobre, ovvero la prossima mensilità. Come di consuetudine vediamo le tre novità in arrivo con il prossimo pagamento. Prima di visionare il video come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace all'interno del video per continuare a supportarci. Grazie. Come detto poco fa le pensioni di settembre sono state pagate a molti pensionati e oggi scatterà anche il ritiro per quanto riguarda i pensionati imposta. Ora parliamo di pensioni di ottobre 2024. Portiamoci dunque avanti con la prossima mensilità vedendo le tre novità in arrivo. Partiamo dalla prima novità. Molti di voi potrebbero ancora ricevere i rimborsi 730, ovvero coloro che sono a credito con IMS e che hanno scelto come sostituto di imposta quest'ultimo potrebbero ricevere ancora i rimborsi 730 che come detto più volte possono arrivare fino a novembre. Quindi questa mensilità per alcuni di voi potrebbe avere un aumento tra virgolette ovviamente dovuto a tali rimborsi. Le pensioni di ottobre inoltre non faranno eccezione per quanto riguarda le tasse. Infatti saranno presenti nel cedolino le solite addizionali regionali e comunali e l'onnipresente IRPEF. Quindi attenzione a questi parametri contenuti nel cedolino che spesso molti di voi scambiano come un abbassamento non dovuto della pensione. Inoltre chiariamolo sin da subito l'ultima particolarità che poi non è una vera e propria particolarità è che con questo mese non è atteso alcun bonus aumento straordinario o tutte fandonie che poi i vari canali spam e clickbait si divertono a divulgare ogni mese. Quindi anche ottobre non sarà un mese che porterà particolari novità nel cedolino se non i rimborsi 730 per chi non li ha ancora ricevuti. Fateci sapere come sempre se avete dubbi e domande qui sotto nei commenti del video. Grazie!